Cervellone, un buon inizio di primo tempo, poi vi siete un po' perse dopo il secondo autogall tutti diciamo, calerebbero fisicamente, però e mentalmente, cosa vi serve in questo secondo tempo, non dico per riacciupare il risultato, però perlomeno grinta, sì dobbiamo essere aggressiva, in bocca al lupo ragazzi, crepi, grazie. Frezza, una buona prestazione, tre autogall però state giocando veramente bene, cosa vi serve in questo secondo tempo per chiudere il match? Per chiudere, no, sinceramente stiamo andando bene, cioè il primo è andato alla grande, penso al secondo, siamo un po', diciamo, ci cambiamo un attimo perché fondamentalmente capisco anche l'altra squadra, io sono per la pace, quindi. Non per la guerra, è giusto. Per questo. In bocca al lupo ragazzi. Grazie Crepi. Buonasera, siamo qui nel post di partita che ho visto affrontarsi, Scarsiano al contro l'atletico per niente, la partita è finita 13 e 2 per... Non lo sapevo. Non lo sapevo, veramente? Il tuo naso, no, no, no. Siamo qui con le due migliori in campo, Borrelli e l'Appiello, andiamo dalla squadra di proprio Scilasco. Va bene, l'Appiello. Scusate. Già è brutto di per sé. Vedi, è proprio sbagliata, è proprio sbagliata, quindi io leggo quello che sta scritto. Una buona testazione nel primo tempo, però troppi errori difensivi e qualche gol che secondo me potrete aiutare. Sì, qualcuno gliel'abbiamo proprio regalato, perché ci sono spiegati. Qualcuno. E non gliel'abbiamo regalare, però non eravamo in campo. Ci mancava mezza squadra, infatti il mio unico gollo dedico a loro. Hai caduto insieme a me. Fare felice, regalaci sto palo. No, io ho giocato la mia partita da terra, si vedeva benissimo il cielo. Ma chi vuole dedicare che è stato migliore in campo? Ma te, ti manca una foto. Ma stai facendo il video? Bravo! No, voglio rifermare il prossimo video. Ma questa dioposeria, niente. Ma perché? È proprio per te che sei. Roby, ti dici il rai, lui. Comunque, se vuoi stringere la mano all'avversario. Complimenti, bravi ragazze, bravi. E' stata colpa in tutta la partita, ma combattitissima proprio. La parte di tutta la squadra mi ha giocato bene. Borrellano, te le mani. E' stata la prima prestazione, complimenti per i tanti gol. Complimenti per il suo. E finalmente è arrivata la seconda vittoria di questo runghissimo. Speriamo che la prossima volta ci siamo tutti quanti, anche noi non sono delle ragazze. Borrellano, grazie. Se volete, 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 se volete. Forza mersa! Ciao ragazzi. Ma voi se sono fiume, mi fa... Oh!